Si va verso la normalizzazione del traffico al quadrivio Spina Santa, dove da sempre è esistita l'anarchia assoluta dal punto di vista veicolare. Finalmente è stato approvato il progetto per istituire una rotatoria e un parcheggio. Adesso si attende la gara d'appalto e l'affidamento dei lavori. Le opere saranno eseguite grazie agli oneri di compensazione dell'ANAS per il raddoppio della 640. L'attesa adesso diventa trepidante anche perché la soluzione del problema al quadrivio Spina Santa non può essere più rinviata. Per quanto riguarda il quadrivio è da decenni che si parla di una soluzione al grave problema della circolazione per evitare la bolgia che praticamente si crea tutte le ore del giorno e soprattutto quando riaprono le scuole. La sola presenza dei vigili urbani non è bastata finora a ridurre i disagi. L'unica salvezza, se così possiamo dire, potrà arrivare con la realizzazione della rotatoria, purché adesso non trascorrano altri mesi inutilmente, lasciando tutto invariato e in mano all'anarchia con il rischio quotidiano di incidenti. C'è da dire che nella zona del quadrivio nascerà una nuova chiesa.